Ben trovati in una puntata di Focus. Ci sono molte persone che non hanno una dimora, che vengono cancellate dall'anagrafe e che per una qualunque vicissitudine della vita hanno bisogno di un'assistenza legale. Allora come fanno? Le difficoltà sono tante, però ci sono in tutta Italia degli avvocati, dei professionisti che si mettono a loro disposizione. C'è l'associazione Avvocato di Strada che si occupa di questo. Da un paio d'anni c'è una sede anche a Rimini. Allora ne parlo direttamente con il coordinatore di Avvocato di Strada a Rimini, Patrick Wilde, e con Antonella Manise, anche lei Avvocato di Strada. Benvenuti. Grazie. Allora, abbiamo detto che sono due anni, giusto? Quando è che avete cominciato questa attività, Patrick? Esatto. Abbiamo inaugurato lo sportello di Avvocato di Strada nel novembre 2017, per cui sono appena trascorsi due anni del nostro insediamento qui a Rimini. Un primo bilancio di questi due anni? È stato un impatto notevole. Non so gli altri. Io lo confesso molto apertamente. Non mi aspettavo che la realtà delle persone senza dimoro, comunque con una, diciamo, delle fragilità e vulnerabilità, fosse così estesa e diffusa come in realtà è. Diciamo che il nostro sportello è un punto di vista privilegiato, a suo modo, su ciò che non si vede così apertamente. E non ti aspettavi questo perché la realtà di Rimini è una realtà particolare dove ci sono molte persone che vivono questa situazione e quindi possono incorrere in difficoltà e che possono appunto richiedere un'assistenza legale. Esattamente. La realtà di Rimini, diciamo, è molto complessa sia dal punto di vista geografico per le sue, diciamo, caratteristiche strutturali. Quindi può capitare che persone giungano, come molto spesso accade nel periodo estivo, per trovare un lavoro e qui ci rimangano. Molte persone transitano da Rimini, oppure ci troviamo anche persone che comunque sono qui da lungo tempo e per la prima volta si rivolgono al nostro servizio necessitando di un aiuto. Ecco, una città di transizione, sono molte le persone che vengono. Anche Antonella, tu sei venuta qua da un altro territorio. E ti sei messa a disposizione di questa associazione, come mai? Diciamo che era appunto un desiderio di mettere al servizio le mie, non tanto conoscenze, quanto piuttosto il tempo che ognuno di noi ha e magari può impiegare anche il servizio degli altri. Perché l'attività che svolgiamo allo sportello non è prettamente quella legale che svolgiamo nei nostri studi. Quindi ci consente anche di metterci in contatto con il livello proprio umano della gente e in questo modo è un arricchimento anche personale. Quindi io che vengo appunto da un territorio diverso, qual è la Puglia, la provincia di Taranto, essendo stata accolta positivamente dall'ambiente riminese, ho deciso di mettermi al servizio per fare qualcosa anche per gli altri, insomma. E venendo da un altro territorio, come lo hai trovato quello riminese in relazione a questo problema, quello delle persone senza una fissa dimora? Rimini diciamo è abbastanza sensibile su queste tematiche o perlomeno anche con l'attività che stiamo portando avanti, cerchiamo di sensibilizzare appunto la popolazione e questo lo facciamo in qualche modo anche attraverso le cene sociali che facciamo ogni anno, dove cerchiamo di presentare la nostra attività, insomma. Patrick, spiegami dunque in concreto che cosa fate, cioè a chi è rivolto questo sportello abbiamo detto le persone senza fissa dimora, ma come avviene il primo approccio e come poi seguite queste persone? Allora il nostro è uno studio legale come tutti gli altri, nel senso che si riceve una persona e si assiste alla persona fino al termine della pratica. La differenza rispetto alle pratiche ordinarie è che non abbiamo appuntamento, non prendiamo appuntamenti, ma lo sportello è aperto ogni due sabati del mese presso le strutture di Caritas in via Madonna della Scala e ricevevano dalle 9 alle 11. Le persone che si rivolgono a noi hanno presentato differenti problemi, quindi abbiamo visto tutta una serie di problematiche, di certo la più frequente è quella connessa all'assenza di residenza, come poi accennavi poco fa. Quello che molto spesso le persone non sanno, e anche noi prima di iniziare in realtà conosciamo questa realtà in maniera molto più approssimativa, è che la residenza è considerata una porta d'accesso a tutta un'altra serie di diritti fondamentali. A tanti benefici. Esattamente, noi siamo abituati, abbiamo una carta identità nel portafoglio. Sì, diamo per scontato che ci sia un indirizzo civico. Esattamente, non pensiamo che si possa perdere questa residenza, però quando accade, e accade molto più spesso, molto più frequentemente di quanto si pensi, oggi, più oggi di 20 anni fa rispetto a 20 anni fa, in quel momento si viene a perdere tutta una serie di diritti fondamentali, peraltro riconosciuti dalla Costituzione, connessi appunto alla residenza. Ad esempio? Il più frequente è la mancata possibilità di rivolgersi al medico di base, quindi l'assistenza sanitaria. Quindi se uno non ha una casa non può neanche avere un medico di base. Esattamente. Che a pensarci sembrerebbe assurdo, non so, una persona che appunto non avendo una residenza dovrebbe essere quella più fragile e più bisognosa, quindi ad avere un'assistenza sanitaria, gratuita, in particolare un medico di base, invece, come mi precisate voi, non può averla. Esatto, ma anche tutte le cure, diciamo, sistematiche e prolungate. Praticamente si è accesso solamente alle cure da pronto soccorso. Chiaramente questo è un po'... Come uno straniero, fondamentalmente. Sì, diciamo di sì. Però è un circolo vizioso, perché chiaramente una persona che non può avere diritto all'assistenza sanitaria ordinaria, poi finirà chiaramente per rivolgersi altrove o comunque creare dei problemi dal punto di vista della sicurezza, oltretutto è un tema molto attuale. Per fortuna a Rimini esistono delle realtà, noi ne abbiamo parlato nel corso di un'iniziativa realizzata l'anno scorso sul diritto alla salute, delle realtà che gratuitamente, al pari di avvocati di strada, forniscono assistenza sanitaria. Una si trova proprio presso le strutture di Caritas, ecco. Ho capito. E ci sono altri invece benefici, altri diritti che vengono a mancare, Antonella, nel caso in cui uno arriva a vedersi cancellato l'indirizzo civico della propria carta d'identità? È capitato che un utente se ne sia accorto perché appunto si era recato in posta e il proprio banco, fatto tra virgolette, era bloccato perché non riuscivano più ad identificarlo proprio essendo stato cancellato dall'anagrafe, insomma. Cioè quindi uno non riesce neanche più a avere accesso al... L'IMS poi blocca anche proprio l'accredito della pensione. Quindi poi c'è una procedura amministrativa che viene gestita dall'IMS, quindi prima si recupera la residenza e poi si ottiene di nuovo la pensione. Questo per chi percepisce il minimo tipo 292 euro al mese è un bel colpo, insomma, da superare per poter vivere. Cioè quindi è davvero il cane che si morde la coda, si innesca tutta una serie di meccanismi per cui vengono a mancare non solo i diritti, ma anche i propri mezzi di sussistenza basilari. Invece è possibile tracciare, Patrick, una sorta di profilo tipo di una persona che si rivolge da voi senza fissa dimora oppure spaziano nelle fasce d'età, nazionalità? Allora, proprio in questi giorni abbiamo inoltrato i dati dello sportello dell'anno 2019 alla sede nazionale, perché ogni anno viene sulla base di tutti i dati inviati dalle varie sedi, siamo circa in 60 sedi in tutta Italia. Si fa un report, il cosiddetto report sociale, che consente appunto di tracciare un bilancio delle problematiche che si riscontrano ad ogni sportello ogni anno e evidentemente appunto delle varie tendenze. Come dicevo, la problematica principale è quella del diritto alla residenza, ma seguono poi tutta una serie di problemi in realtà molto importanti, quello appunto il diritto al lavoro, tutta la serie di problematiche legate al diritto all'immigrazione, che poi sono aumentate con l'introduzione dei decreti di sicurezza. Diciamo che in generale ciò di cui ci siamo accorti è che si conosce molto poco della povertà e ancora meno della povertà assoluta. È un concetto molto sfumato. Abbiamo probabilmente uno stereotipo, resiste ancora a questo stereotipo, del clochard, un po' romantico, della persona che sceglie volontariamente di vivere per strada. Ecco, ma è sempre così? No, assolutamente. Magari ci sono sicuramente dei casi, ma sono limitati. Non sono rappresentativi del problema. Noi non abbiamo incontrato nemmeno uno in questi due anni. Anzi, incontriamo, come dicevo all'inizio, persone che non ti aspetteresti, che vivono in strada e che quindi sono dimostrative del fatto che per passare da una situazione, tra virgolette, di sostentamento a una situazione drammatica e grave, cioè vivere appunto senza un tetto sopra la testa, ci vuole molto poco al giorno d'oggi, per variate ragioni. Ecco, dopo approfondiamo il diritto al lavoro e il diritto alla migrazione che ci avete detto essere alcuni degli aspetti più trattati all'interno del vostro sportello. Dicevi prima, Patrick, che improvvisamente ci si trova ad arrivare in questi tipi di situazioni, fra quelle che avete avuto voi nel vostro sportello e appunto in genere, come arrivano a trovarsi senza un tetto sopra la casa queste persone? Che storie hanno alle spalle? Ah, le più svariate. Una volta sono rimasta sconvolta, tra virgolette, perché si è presentata una ragazza giovanissima. Io l'ho accolta dicendo sia una nuova volontaria, perché mi aspettavo che fosse parte di noi. Diciamo, non aveva la fisionomia del clochar tipo nel nostro immaginario. E invece era una ragazza che era iscritta all'università, prima quindi come fuorisede aveva preso una residenza provvisoria, tra virgolette, e poi invece si è trovata a vivere per strada senza poter individuare una sistemazione più adeguata e idonea a prendere la residenza, perché comunque ci sono anche dei requisiti che l'immobile deve avere per consentire di ottenere appunto la residenza. Quindi problemi economici improvvisi? Sì. Di questo si tratta? Sì, esatto. Perdite di lavoro, problemi familiari che ti portano? Sì, perché la ragazza studiava e faceva dei lavoretti, insomma, per mantenersi, poi purtroppo non ce l'ha fatta più. Quindi ti trovi davanti appunto le situazioni più disparate. Questa era una delle più giovani che abbiamo incontrato, avrà avuto 22 anni se non sbaglio. Davvero giovanissima? Sì. E fino a che età arrivano le persone che avete preso? Intorno ai 50-60 massimo, finora più o meno. Sì. E le storie sono sempre simili, quelle che hanno alle spalle, appunto, questioni di lavoro, perdite di lavoro o distaccamento del nucleo familiare anche? La maggior parte sì, perché magari si separano, quindi la casa che era quella familiare viene assegnata alla moglie e ai figli e loro purtroppo cercano di sopravvivere con le forze economiche anche che li restano e poi purtroppo magari anche con la crisi economica che ha colpito l'intera Italia si sono trovati costretti a vivere poi per strada in condizioni di povertà. E sono persone originarie di questo territorio oppure vengono anche da altre province o da altre regioni? Ne abbiamo di tutti le provenienze. No, stavo pensando a quello di cui stavate parlando poco fa e mi ricordo che il primo caso di residenza, di persona a cui siamo riusciti a fargli ottenere la residenza, mi ha colpito. Perché appunto non rispondeva alle caratteristiche tipo di una persona senza dimora a cui si pensa inizialmente, ma era una persona originaria di un'altra regione, ma che ha vissuto a Rimini dall'età di sei anni. Infatti nei suoi ricordi c'era praticamente la storia di Rimini degli ultimi 50 anni. Citava appunto tutti i posti in cui aveva vissuto, le relazioni, le scuole che aveva frequentato, i lavori che aveva fatto. In questo caso era una persona che addirittura nel periodo d'oro delle discoteche riminesi aveva lavorato in questo campo, in questo settore. Quindi anche l'elemento che colpisce, è vero che sono pratiche legali, però quando si presentano allo sportello non sono mai pratiche che riesci a gestire in un paio di minuti. Non sono multe sul bus, ci sono anche quelle chiaramente. Però si tratta molto spesso di essere coinvolti nella storia di una persona. Chiaramente la storia di una persona si trascina con sé tutte le problematiche, non soltanto legali, ma anche familiari, sociali, umane. Certo, immagino che tipo di difficoltà possa avere dal punto di vista, come dicevi, sociale e psicologica. Una persona che ha vissuto in una città, in un contesto sociale, familiare o lavorativo e poi vedersi di punto in bianco vivere quegli stessi spazi, percorrere quelle stesse strade da persona senza un indirizzo civico. Deve essere piuttosto alienante. Molti purtroppo non accettano giustamente questa situazione, magari scatta la guerra tra poveri perché dicono ah io vado alla Carita, su altrove a fare la doccia, ma io non sono come loro. Quindi purtroppo magari è un atteggiamento per superare quella difficoltà, però anche dovrebbero mettersi più nei panni di tutti gli altri perché purtroppo la situazione è critica per tutti, quindi non c'è, io sono meglio di te. Alla fine usufruiscono tutti degli stessi servizi che per fortuna ci sono anche nel territorio. Allora, veniamo al tipo di assistenza legale che fornite, quante persone più o meno in questi due anni hanno avuto accesso al vostro sportello indicativamente? Sì, il numero è, non mi ricordo se lo citavo prima, abbiamo visto incontrato, probabilmente circa 200 persone, numero più, numero meno. Di queste, per cui magari non abbiamo fatto soltanto orientamento verso altri tipi di servizi presenti in città, abbiamo seguito appunto la pratica dall'inizio e dall'inizio alla fine. Come dicevo, lo sportello di Rimini in linea con la tendenza di tutti gli altri sportelli in Italia, registra il numero più alto e elevato di pratiche per quanto riguarda quello della residenza. Ecco, in che cosa consiste questo tipo di assistenza legale? Cioè voi di fatto fate proprio il lavoro dell'avvocato che porta i fascicoli in tribunale e porta avanti le case di queste persone, così? Esatto, la maggior parte non sono cause che in realtà finiscono in tribunale. Molto spesso riusciamo magari, perché si tratta di gestirlo con altri uffici, cioè con la Nagrafe, la Questura, l'Inps, eccetera, eccetera, riusciamo a risolverlo così. Altrove siamo costretti invece a fare una causa in tribunale o a difenderci in tribunale. Ricordo un successo poco prima di Natale, una persona del territorio che abbiamo difeso in una causa di mantenimento, si è trovato costretto a difendersi ed è stato bello... Cioè il mantenimento dei film, dei film, esattamente. È stato, diciamo, bello, tra virgolette, il fatto che è una pratica che abbiamo gestito in realtà in maniera collettiva come tutto sportello, anche con l'assistenza, perché la causa poi l'audienza si svolgeva in un'altra regione, e quindi anche con l'assistenza di colleghi che al pari, chiaramente gratuitamente, ci hanno sostituito in... Cioè sempre di avvocato di strada, però di altre sedi. Esattamente. Ecco, ci fate alcuni esempi di queste cause che seguite. Quindi qui ad esempio avevamo un genitore che si era ritrovato senza una dimora, però aveva il resto della famiglia che invece continuava a necessitare dell'assistenza del genitore. Esatto, che nel frattempo domandava l'importo per il mantenimento. Poi abbiamo avuto diverse cause di diritto del lavoro, e qui sconti il doppio peso di essere un lavoratore precario, magari stagionale, ed essere una persona senza dimora, quindi doppiamente vulnerabile. In questo caso magari si trattava di differenze retributive, altrove di importi che non sono stati pagati. Cioè era già senza fissa dimora quando lavorava, da stagionale? Sì, sì, sì. Oltretutto, e questa è un'altra problematica che si verifica molto spesso, è molto difficile essere nella pratica. Non serve materialmente la residenza, però sfido chiunque a farsi assumere in regola senza una carta d'identità. Un datore di lavoro molto difficilmente ti assume se non hai una carta d'identità, un documento che prova che sei tu. Certo. E questo vale per l'assunzione e vale anche per lo stipendio, perché chiaramente non potendo puoi fare un conto in banca, perché la banca non ti apre un conto. Se non hai una carta d'identità. Esattamente. E non potrai poi essere pagato per quello che fai. Quindi vieni portato a tua volta a lavorare in una situazione di irregolarità. Immagino. E invece parlavamo anche di immigrazione, anche di questo vi occupate, di questo tipo di... Sì, diciamo che nel campo è Patrick l'esperto. Però gli altri volontari magari almeno gli fanno un po' di lavoro raccogliendo le informazioni, cercando di sintetizzare al meglio per poi appunto favorire la sua attività. E Pat, gli stranieri che sono sul nostro territorio, di che tipo di assistenza in particolare hanno bisogno? La problematica è fondamentalmente quella legata al permesso di soggiorno. Quindi parliamo sia di permessi di soggiorno ordinari che di tutto il filone della protezione internazionale. Quindi c'è capitato in realtà in maniera più frequente all'inizio dell'attività dello sportello. Però anche adesso, diciamo, c'è un accesso piuttosto, come dire, frequente di queste persone che si ritrovano o fuori dai circuiti dell'accoglienza a causa degli effetti del decreto di sicurezza. I famosi decreti che hanno sono andati a rivedere tutto il sistema di tipi di permessi concessi a persone straniere arrivate sul suolo italiano. Esattamente, per quanto riguarda la domanda di asilo. Quindi dove sicurezza è enunciato solo nel nome, poi la sostanza è l'esatto opposto. E poi tutta la problematica invece dei permessi di soggiorno ordinari che vengono rinnovati solo in pendenza di una... cioè avendo una residenza. Quindi diventa ad un certo punto un altro circolo vizioso perché chiaramente tu nel momento in cui perdi il permesso di soggiorno, non avendo la residenza non puoi rinnovare il permesso di soggiorno. E una volta che hai perso il permesso di soggiorno non puoi nemmeno rinnovare la residenza. Quindi ti trovi in una situazione... Io mi ricordo di questo signore su cui purtroppo... Perché non è detto che si riesca... Noi abbiamo un bellissimo motto di avvocato di strada che è che non esista una causa perse. Però a volte la situazione è talmente compromessa, esatto, che quando si rivolgono a noi che non sempre è possibile cambiare lo stato delle cose. Mi ricordo questo signore di origini egiziane, se non erro, che aveva avuto un infortunio sul lavoro. Insomma aveva un'invalidità, aveva perso il permesso per motivi di lavoro. Sì. E quindi conseguentemente la residenza. Sì. E a quel punto non poteva né rinnovare il proprio permesso, né percepire i soldi dell'invalidità. Quindi di fatto era bloccato ed era bloccato in Italia. Perché abbiamo una legge che poi non ti... Tu torni, era più o meno da vent'anni in Italia questa persona. Quindi vent'anni sono tantissimi se si pensi, no? Certo. E una persona che torna nel proprio paese senza cosa... Cioè senza nemmeno i contributi. Magari un paese che poi, ripeto, non vedeva da una vita. A vent'anni sono insomma un terzo, un quarto insomma della vita di una persona. Insomma vi hanno fatto moltiplicare il lavoro, il decreto sicurezza e il modo in cui è stato rivisto il sistema dei permessi umanitari. Sì, quello, l'abrogazione della protezione umanitaria sicuramente è un po' il fulcro della riforma. Ma sempre connesso all'attività di Avvocato di Strada c'è stato anche il divieto della possibilità di scrivere i richiedenti esilo alla Nagrafe. E questa è una battaglia che Avvocato di Strada ha portato avanti negli scorsi mesi in tutta Italia, ottenendo insomma delle importanti vittorie in tutti i tribunali praticamente, riuscendo a far ottenere la residenza alle persone che ancora sono in attesa della loro risposta. Perché è così importante averla per loro? Perché nel frattempo hai la possibilità di lavorare, hai la possibilità di rimanere in un circuito di legalità. Perché altrimenti senza residenza questi richiedenti esilo rischiano di scappare dalle maglie della legalità e finire magari ad alimentare il mercato nero. Assolutamente, assolutamente. Se non hai la possibilità di fatto di lavorare, come abbiamo visto, poi stando magari anni, mesi, anni senza queste possibilità, finisci poi per, uno, non avere le possibilità di dimostrare la tua integrazione e quindi non avere accesso magari a quella che era la protezione umanitaria. Certo. E secondo di alimentare, come dicevamo, questo tipo di mercato. Quindi è sicuramente un controsenso. Abbiamo un ultimo, un pochi secondi in realtà, e allora un ultimo appello che fate? Vi servono più colleghi, avvocati che vi diano la mano? Non solo avvocati, certo. Non solo avvocati. Sarebbero graditi appunto colleghi, però il nostro sportello accetta volontari di qualsiasi provenienza, tra virgolette, quindi l'importante è che abbiano del tempo e la voglia di mettersi al servizio appunto della gente, che degli utenti che accedono al nostro sportello, potrebbero essere anche magari qualificati come professionisti o altre figure particolari, però va bene qualsiasi provenienza, insomma. Ogni mano è ben gradita. Esatto. Allora, in bocca al lupo a avvocato di strada Rimine, a Patrick Wilde, Antonella Manisi. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Focus. Arrivederci. Noi ci vediamo alla prossima puntata di